Circa 44 kg di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia nel Ragusano durante un'operazione antidroga condotta da agenti della squadra mobile della Questura e del commissariato di Vittoria. Gli investigatori hanno arrestato un 45enne proprietario dell'immobile sulla provinciale che collega Vittoria e Scoglitti dove sono stati trovati 20 involucri che contenevano la sostanza stupefacente. La droga aveva un valore di mercato stimato in circa 300 mila euro. L'operazione che rientrava nell'ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Ragusa è stata eseguita nei giorni scorsi ma la notizia è stata resa nota oggi dalla procura dopo la convalida dell'arresto da parte del GIP per spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagato che ha precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona resta quindi in carcere.